Passiamo a, come dire, la seconda scienza che tu applichi e pratichi come professionista, che è quella dell'andrologia. Anch'essa è, come dire, una scienza importante perché si occupa sempre dell'organo maschile. Vediamo un attimo qui che tecniche con le slide sono possibili. Oggi mi aggancio proprio forse all'argomento di cui stiamo parlando, il fatto che il nostro organismo, come stava dicendo, si modifica e dobbiamo accettare delle modifiche. Il mio secondo argomento oggi era proprio questo, un po' più tranquillo, sereno, più che di parlare di malattie, parliamo forse di prevenzione, di qualche, anche disagio, non voglio parlare proprio di malattia, ma di disagio che può trovare l'uomo avanzando con l'età. Quello che nella donna si chiama menopausa, anche se come termine da molti scienziati non è accettato, è l'andropausa maschile, una modifica del nostro assetto ormonale. Quindi questa figura, la figuravo queste persone un po' con gli anima che ancora hanno il desiderio di divertirsi e a fianco ci sono scritte in grosso i due ormoni che l'uomo deve avere a livelli normali o ottimali per vivere bene, sia a 20 anni che a 75, che sono il testosterone e l'ormone della crescita. Possiamo andare avanti con la diapositiva, questo non facciamo lezioni qui chiaramente, però è il sistema di regolazione, l'ipotalamo che è il direttore d'orchestra, sotto c'è l'ipofisi che su stimolo dell'ipotalamo produce queste due gonadotropine LH ed FSH che agiscono, nel caso di noi maschietti, sul testicolo. LH per produrre testosterone, FSH per produrre spermatozoi. È tutto molto controregolato, ci sono dei feedback negativi, quindi se si alza una molecola l'ipotalamo avverte subito l'ipofisi di ridurre l'attività. È un argomento, un sistema delicato che però dobbiamo conoscere perché proprio con questo sistema, con le giuste competenze, possiamo far sì che la produzione delle molecole a noi utili avvenga in maniera regolare. Nella prossima andiamo veloci, però è un protagonista, il GH, l'ormone della crescita che ha numerosissime funzioni rigenerative e agisce come vediamo su vari organi dal fegato che poi produce l'IGF1 che è il mediatore, ma molto sulla densità ossea, muscolare, ha una grossa azione lipolitica, quindi serve anche a impedire l'accumulo di tessuto adiposo a livello viscerale. Ormone importantissimo che se procediamo, vediamo come tende a calare in maniera drammatica dopo i 30 anni, quindi fino ai 30 anni siamo tutti belli, con la pelle bella, capelli lucidi e in forma, dopo il Giac tende a calare. Qualcuno dirà l'invecchiamento, lo devi accettare, però forse non in maniera così assoluta, possiamo anche cercare di, è perfetto quest'altro, il campo terapia di contrasto, e questo è il nostro testosterone, nel giovane a livelli abbastanza alti, arriviamo a 8-9 nanogrammi di cilidro, nell'uomo invece ormai in età intermedia inizia a calare con tutti anche gli effetti negativi dell'assenza di testosterone. Vediamo, è veloce, le alternative di quella che oggi si chiama la terapia ormonale sostitutiva, cioè come la donna sostituisce gli ormoni che sta perdendo, lo possiamo fare anche noi, ma mentre un tempo si proponevano le punturine o il gel, che è una valida alternativa, oggigiorno esiste la possibilità anche di utilizzare degli ormoni bioidentici, cioè sintetizzati partendo da una molecola vegetale, possiamo sintetizzare l'ormone vero e proprio, privo di effetti collaterali, perché è bioidentico, quindi più identico al nostro, ed è possibile assumerlo per via sublinguale, quindi queste novità a livello farmacologico. In America basta ordinare per telefono, ma non voglio sostenere il comportamento, però insomma è più semplice, lì l'uomo che vuole fare l'anti-aging, che va, compra e è su guida del proprio medico, da noi ci sono delle leggi che dobbiamo rispettare, non sto dicendo di liberalizzare il tutto. Andiamo avanti, penso che come slide stiamo finendo, questa è un po' la novità, abbiamo due di positive, questa, i SARM, cioè la scienza sta introducendo delle molecole selettive, cioè dei modulatori selettivi dei recettori degli androgeni, quindi io non prendo più, per dire il testosterone, perché sto calando muscolarmente in maniera drammatica, ma prendo il SARM che agisce sui recettori del testosterone a livello solo muscolare, quindi esclude effetti non voluti. Abbiamo parlato di prostata, il testosterone è benefico, però causa comunque un aumento del volume della prostata. Questi sono, è un prodotto, giusto così, simbolico, giusto per dire, sono nati i peptidi, i peptidi sono delle sequenze di aminoacidi, sono nati, abbiamo scoperto, in natura c'è tutto, che praticamente rappresentano una parte attiva dell'ormone, in questo caso l'MK677 cosa fa? Stimola dei recettori dello stomaco, i recettori della grelina, che stimolano a loro volta il rilascio di ormone della crescita, quando abbiamo visto quello schema. Allora l'MK677, che in Italia non è ancora vendibile, sì in America e forse in Inghilterra sta iniziando, può permettere di assumere questa molecola che è un peptide, non è un ormone, e far sì che il nostro corpo produca esso stesso, su stimolo, l'ormone della crescita. Quindi non voglio sponsorizzare il tutto, però dire che sta nascendo un mondo di cui dobbiamo tenere considerazione e l'anti-aging è indispensabile. Mi aiuti con una piccola traduzione, abbiamo parlato, ormone della crescita e testosterone, me lo semplifichi, dimmi in modo semplice, cosa aiuta per far capire alla persona più ignorante possibile, cosa aiuta? Io ormai do per scontato che studiamo tutti sul web, allora il GH serve tantissimo per la rigenerazione dei tessuti. Quindi? Quindi la massa ossea, la massa muscolare, la rigenerazione. Nel caso dell'organo sessuale, cosa succede? Ma a livello dell'organo sessuale, devo dire, responsabile all'inizio, cioè nell'adolescenza per il sviluppo degli organi, dopodiché a livello sessuale, vero e proprio, il GH ha un'azione relativa, sono sincero, devo rispondere onestamente, insomma e quindi più su un trofismo e su un benessere fisico. Fisico generale. Testosterone invece dimmi? Testosterone è protagonista del desiderio e quindi della libido, ma anche della risposta erettile, perché ci sono recettori nei corpi cavernosi per il testosterone. Il testosterone quando cala c'è proprio questa condizione di andropausa, quindi mentre GH... Quindi la performance dell'organo sessuale maschile col testosterone al punto giusto di migliori. Perfetto, assolutamente sì, ecco perché da giorni siamo... Dovamo ad urlo però, perché siamo troppo scienziati. Vediamo cosa dice questo medico, vai. È un bravo collega, sì, due minuti. E' un di anabolizzante. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, sono Ivan Martellato e oggi parliamo di peptidi, in particolar modo parliamo di un peptide, tra cui l'MK677 che è utilizzato nel bodybuilding per la crescita muscolare, ma anche in ottica anti-aging in America, in quanto è utilizzato per l'induzione di un buon sonno, è utilizzato per contrastare la sarcopenia e è utilizzato anche per ricalibrare il nostro orologio biologico, visto che comunque il GH, assieme alla melatonina, assieme al DEA, fa parte di quegli ormoni che nell'arco dell'invecchiamento calano, portando così anche un abbassamento della qualità della vita nelle persone anziane. Innanzitutto, prima di parlare di MK, parliamo di peptidi. Che cosa sono i peptidi? I peptidi sono delle catene di amminoacidi. E fin qua tutto quanto bene, però determinati peptidi vengono prodotti dalle nostre cellule di determinati tessuti, che fanno parte di organi, in condizioni stressanti o in condizioni anche fisiologiche, normali, per modulare i giusti processi cellulari. Che siano processi cellulari di crescita, di proliferazione, quindi piuttosto che di riparazione o di apoptosi, quindi di autodistruzione, i peptidi vengono comunque sempre e perennemente prodotti. Ci sono peptidi antimicrobici, che vengono e servono per contrastare la possibile invasione di microbi. Ci sono peptidi che servono per la rigenerazione, quindi fare in modo che le cellule riescano a ripararsi senza portare un accumulo di collagene. Ci sono peptidi che servono per aumentare la secrezione di GH e di modulare proprio la componente ormonale umana, come ad esempio la MK677. Poi ci sono anche peptidi antitumorali che riescono a modulare il ciclo cellulare. Abbiamo dei peptidi che servono per la neurodegenerazione. Abbiamo chiesto che è molto importante. Concludi quindi. Cosa bisogna fare? Allora, su questo argomento sicuramente facciamo un passetto indietro, conosciamoci, nel senso che ecco anche l'assetto ormonale deve essere conosciuto, perché c'è il tessosserone, esiste il GH, ma esistono amici e nemici del tessosserone, il DEA, il DHT, gli estrogeni che possono inibire tutto quel sistema e il tessosserone diventa estrogeno se alcuni enzimi lo trasformano. Quindi sicuramente oggi abbiamo affrontato due argomenti dove la prevenzione è fondamentale. Urologia, conoscere la nostra situazione di ghiandola prostatica, sia a livello di svuotamento vescicale, sia a livello di malattie più serie, ed era il primo filmato che ha mandato sulla prevenzione. L'andrologia non deve essere vista solo come il ricorso a un problema. Non ho figli, allora vado dall'andrologo per la mia infertilità. Deve essere vista a livello preventivo. Preveniamo l'insorgenza di questi decadimenti o progressioni. L'apparato sessuale maschile è un apparato importante, è una parte fondamentale del corpo. Di conseguenza prevenzione e, come dire, terapia seria. Non facciamo cose improvvisate. No, quello no. E andiamo quindi da urologo, andiamo a trovare il nostro Andrea Militello. Sito internet? Sito internet ne ho due, www.andrologiamilitello.it o www.urologia-andrologia.net. Poca fantasia. Vai, ci siamo. Sono i siti. Grazie. Grazie a tutti e pubblicità. Grazie a voi, buonasera.